Buongiorno e benvenuti in questo nuovo approfondimento di Lombardia Notizie Online. Oggi l'appuntamento è con la Bici Gravel, un grande appuntamento a 25 settembre con la prima Gravel Marathon di Lombardia. 111 chilometri e oltre 3.000 metri di dislivello. Vediamo che cosa hanno detto i protagonisti nel corso della conferenza stampa. Abbiamo presentato oggi la prima Gran Fondo Gravel che si fa in Lombardia e la faranno a Montespluga in Val Chiavenna. È un percorso bellissimo, ho già visto i filmati, sono 115 chilometri per 3.500 metri di dislivello. La Gravel è un po' la nuova moda perché è una via di mezzo tra la bici da corsa e la mountain bike. È una bici leggera con la quale si può pedalare su strade spettacolari in mezzo alla natura. Quindi penso che sarà veramente un bellissimo evento di sport e di promozione del nostro territorio. Tanti sempre più ciclisti. Insomma se tu vai in giro il sabato e la domenica vedi sempre tanti ciclisti e questo è molto bello. Però la strada è pericolosa, vuoi per il grande traffico, per le strade non sempre perfette, per i lavori che sono stati fatti e la strada non riasfaltata. Quindi la Gravel è sicuramente un modo alternativo per fare una bici da corsa, una bici da strada su ciclabili, su piste ciclabili o in mezzo alla natura. 25 settembre, la prima Gravel Marathon Valle Spluga per lanciare il mito del passo dello Spluga, non solo in ambito del trekking, dopo 20 anni del progetto trekking della via Spluga. Ora stiamo puntando anche sul tema delle due ruote, Val Chiavenna sempre più apprezzata e conosciuta come meta delle due ruote, sia per gli amanti delle grandi salite tecniche come il passo dello Spluga che è stato nel 2021 sede dell'arrivo del Giro d'Italia alla Pemotta con la mitica salita in solitaria di Damiano Caruso e settimana scorsa, il 14 giugno, l'arrivo dell'Under 23 con la Chiuro Chiavenna. Oltre alle grandi salite abbiamo la ciclabile della Val Chiavenna, ma accogliamo con entusiasmo, visto che abbiamo sempre voluto anticipare un po' le tendenze, anche questa Gravel Marathon, la prima di Regione Lombardia, 115 chilometri dalla sua metà del lago di Como al passo dello Spluga, partenza e arrivo a Chiavenna, 3600 metri di dislivello, tre soste gourmet che vogliamo curare particolarmente bene, visto la grande tradizione no gastronomica della nostra valle. La Gravel sta crescendo tantissimo, poi le abitudini anche dei ciclisti, dei cicloturisti in questi due anni sono cambiate drasticamente. È vero, le gran fondo classiche stradali stanno diminuendo, sta diminuendo la partecipazione perché si buttano molto più le persone sui percorsi boschivi, sulle strade bianche, su vivere la bici a contatto con la natura, bici come scoperta, bici come movimento, non solo bici come agonismo. Questo è un trend in grande crescita che stiamo cercando di cogliere anche con questa manifestazione. Pensiamo che sia anche il modo giusto per un territorio di promuoversi. Il ciclismo è da sempre un grande strumento, una grande leva per far incentivare il turismo, per far crescere le strutture ricettive, per far crescere tutto il territorio intorno a una economia della bicicletta in grandissima espansione. Bene, è tutto con questo approfondimento di Lombardia Notizie Online. L'invito è quello di seguirci ancora sul nostro sito lombardianotizie.online e su tutti i nostri canali social.